Gli allunni della classe quarta, che classe fate ragazzi? Quarta B, piano piano dovete parlare, operano nella piccola aula multimediale di Spinetto Siamo seguiti dall'insegnante Zaffino Allora ragazzi vi piace lavorare con il computer? Sì! Ok, oggi con la maestra, va bene, farete Lavoreremo sul computer e apriremo il programma Word, che è un programma di scrittura Oggi allora lavorerete con il programma di video scrittura Word E che dirvi ragazzi? Dai! Devi aspettare un pochino Adesso Adesso prende il mouse, prende il mouse, start, vai, bravo Ha detto la maestra Word Poglio di video scrittura, Word, Word Sopra, vai con il mouse, ok La stessa cosa, bravo Andiamo dopo il Word, dai Vai, cliccate Ecco qua, ci siamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. E qui c'è il ciocco e la grandezza. No ragazzi nel laboratorio si deve stare fuori buoni. E' piccolino cosa vuoi sapere tu? Lo sistemerò io adesso! Buoni buoni! Tranquilli, tranquilli. Allora uno, basta, due, scegliamo prima di tutto il modo di scrivere e allora vedete che sulla finestrella in alto a sinistra ci sono i vari formati con cui noi possiamo scrivere. Per favore, c'è la... Ascoltate! Alla vostra azione master c'è l'insegnante! Ascoltate! Allora ci siamo? Due, tre, tre, un colo. Andiamo in classe di nuovo? Allora un pochino del silenzio. Ascoltate! Ascoltate! In alto a sinistra! Ma... Hi LD, adattand... Oniss bil meno, assicoltate lo, mius reports! L'op reverto! Anfaptare? 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 Anfaptare?